Buonasera a tutti. Quello che io vado ora a presentare è una laurea magistrale attivata quest'anno, quindi una laurea magistrale fresca, perché il primo anno di attivazione è esattamente questo anno che sta ancora finendo il primo corso, il primo anno, scusate, della magistrale, quindi è stata attivata nell'anno 2021. È una classe, è una laurea denominata Cyber Security, in una classe particolare, quindi non è una classe delle lauree di ingegneria, ma è una classe specifica, quella che si chiama sicurezza informatica ed è, sin dalla sua costruzione, è sicuramente una laurea multidisciplinare. Perché? Perché vede coinvolti, e qui vengono citati il Dipartimento di Informatica, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, ma vengono anche coinvolti, docenti di giurisprudenza, quindi del Dipartimento di Giurisprudenza, e docenti di Economia, quindi Economia e Management. Quindi è per sua natura una laurea multidisciplinare con competenze diverse. Allora, perché una laurea in Cyber Security? Allora, prendiamo notizia fresca di giornata. Questo qui è quello che oggi trovate su diversi quotidiani, in modo particolare questo è Affari Finanza di Repubblica. C'è stato recentemente un attacco agli oleodotti negli Stati Uniti e ci sono anche stati altri attacchi alle attività di Elon Musk e all'Apple. E in modo particolare il titolo, l'America digitale è sotto shock perché sono stati attacchi particolarmente invasivi. La cosa che mi ha messo, mi ha portato a mettere questa trasparenza, questa notizia dalla stampa, è per quello che dice, viene detto in fondo. Dice che, qual è il problema? Che la Cyber Security viene trattata come quella cosa che era nei videogiochi, da War Games in poi, cioè delle cose che sì, ci sono dei personaggi particolari che si chiamano hacker, molto, molto intelligenti, molto capaci, che però hanno degli effetti drammaticamente reali sulla struttura delle organizzazioni, in modo particolare l'organizzazione degli oleodotti o l'Apple. Quindi l'Apple è capitalizzata in borsa più dello Stato italiano, quindi hanno un effetto drammaticamente importante. Questa figura invece, è una figura tratta da un rapporto di Forbes, far vedere nel 2020, quindi è una figura datata, cioè di un anno a circa, fa vedere, tipicamente questo tipo di analisi vengono fatte a fine anno, quindi quella del 2021 non è ancora disponibile. E viene fatto vedere cosa vuol dire il costo degli attacchi informatici su un'economia mondiale. Alla scala sono miliardi di dollari e quindi ad esempio i malware, quindi i virus, dei particolari tipi di virus che vengono inseriti, ad esempio quello che è stato, che ha attaccato l'oleodotto è un malware, ha un impatto sull'economia per oltre 2350 miliardi di dollari. Gli attacchi sul web per 2000 miliardi di dollari, attacchi di denial of service, il fatto che faccio un attacco che rende, non permette di utilizzare dei servizi, quindi un miliardo e mezzo e così via. Vedete tutto la varie casistiche di vari tipi di attacco. Sostanzialmente si superano i 6 milioni di dollari, i 6 mila, scusate, milioni di dollari, 6 milioni di dollari sono poche, 6 mila, 6 milioni di dollari, per avere un'idea di che cosa vuol dire le problematiche di cyber security. Anche questa è un po' più recente, sono le problematiche di cyber security principali nel 2020. Questo è un risultato da una pubblicazione dell'ENISA, che è l'ente europeo che affronta le problematiche di cyber security. E vedete, anche qui al primo posto ci sono i malware, ci sono i web-based attack, ci sono il phishing, cioè l'impersonificare altre persone. Poi vedete, ci sono tanti esempi che si va anche dal cyber spionaggio, il ransomware, il fatto di togliere dell'information leakage e tanti altri aspetti che trovate spessissimo sui giornali. Il fatto che l'economia e il sistema delle infrastrutture dei paesi maggiormente industrializzati ha e deve affrontare in un modo consapevole e con opportune caratteristiche la problematica della cyber security è evidenziato da tantissimi documenti. Questo, ad esempio, è il documento iniziale della Commissione Europea della prospettiva digitale dell'Europa nei prossimi dieci anni. Ed è, dice che la cyber security è una componente essenziale della tecnologia che occorre per avere una società migliore. Allora, capite il perché noi come Università di Pisa abbiamo attivato una laurea magistrale in cyber security? Perché è essenziale formare degli specialisti, perché la cyber security è una componente della nostra vita futura e in realtà della nostra vita presente, cioè è importante avere questi specialisti che abbiano una miscela di competenze che sono scientifiche, tecnologiche, manageriali, legislative, nell'ambito di tutto quello che vuol dire sicurezza nel contesto della transizione al digitale. Allora, andiamo a vedere quali sono gli ambiti che vengono affrontati all'interno del percorso formativo della laurea magistrale in cyber security. C'è sicuramente un aspetto che ha a che vedere, la sicurezza e la fidabilità dei sistemi che sono nei sistemi delle reti di telecomunicazione, nei sistemi intesi come infrastrutture di calcolo e di supporto, nel hardware e nel software. Poi ci sono un certo numero di tecniche e di metodologie abilitanti, che sono i linguaggi di programmazione. Perché? Perché bisogna essere in grado di programmare, sviluppare sistemi sicuri, bisogna essere in grado di progettare, programmare delle difese in modo tale da rispingere attacchi a sistemi. E si usano i linguaggi di programmazione, le tecniche di criptografia, le tecniche di intelligenza artificiale. Ma bisogna avere una mente aperta al contesto digitale dove i sistemi oggigiorno sono piazzati. Quindi bisogna avere una, quelle che si chiamano delle soft skill nelle competenze dell'organizzazione aziendale, in modo tale da comprendere che cosa vuol dire una soluzione di sicurezza all'interno di una specifica organizzazione e poi ovviamente gli aspetti legislativi, la privacy o tutti quelli, tutti gli aspetti che hanno a che vedere con la gestione di informazione. L'alara magistrale in cyber security non ha una, proprio per questa sua natura multidisciplinare, non ha una laurea triennale di riferimento. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che si possono iscrivere alla laurea magistrale in cyber security sia i laureati delle classi alle 31, quindi quelli che sono laureati in scienze e tecnologie informatiche, o i laureati in ingegneria dell'informazione, sono nella classe L8, oppure delle lauree equipollenti perché o vengono dall'estero, oppure sono equipollenti in base a degli opportuni decreti legislativi del decreto delle classi. Però non è chiusa l'accesso soltanto a coloro che hanno le competenze in informatica. In realtà possono iscriversi coloro che hanno almeno 36 crediti formativi nei settori dell'ingegneria, delle telecomunicazioni, dell'ingegneria dei sistemi, nell'hardware e nell'informatica. E poi devono avere anche un certo numero di crediti formativi, 18, nei settori della matematica e della fisica. Infine è richiesta la conoscenza della lingua inglese, il livello B2. Questo perché? Perché come vedremo nel seguito, quando faremo un'analisi un po' più articolata di quello che succede in Italia sul versante cyber security, la laurea magistrale in cyber security dell'Università di Pisa è una laurea internazionalizzata e derogata in lingua inglese. Questa è la struttura del piano di studio. Ovviamente essendo una laurea data ora non vi posso dare, e non siamo ancora in grado di darvi statistiche relativamente ai percubi, quanto tempo ci impiegano gli studenti, quali sono i sbocchi lavorativi, eccetera, eccetera. Non abbiamo ancora finito il primo anno. Vedete che i colori sono pensati sostanzialmente per far capire le varie competenze. Allora partiamo dai colori, io li vedi in giallo, mi auguro che anche voi le vediate in giallo, che sono le componenze, i software skill, le skill dicevo trasversali. Ci sono aspetti di economia e aspetti di giurisprudenza. Poi c'è la parte più di natura tecnologica, ad esempio aspetti di dependability, aspetti di network security e di intelligenza artificiale però applicata al caso specifico della sicurezza e poi anche la sicurezza dei dati e dei sistemi. Infine ci sono gli ambiti più prettamente scientifici che è l'uso dei linguaggi di programmazione. Cosa vuol dire usare un linguaggio di programmazione che ha specificatamente le primitive linguistiche che occorrono per programmare applicazioni che per loro natura sono sicure e come si possono utilizzare tecniche di crittografia per rendere il sistema che stiamo sviluppando maggiormente sicuro. E infine ci sono aspetti di competenza fine che hanno a che vedere con, ad esempio, le problematiche dell'hardware e in quei contesti dove avete dei sistemi embedded che devono essere per loro natura, ad esempio gli oleodotti e i controllori degli oleodotti da cui siamo partiti oggi, che devono essere sicuri. Come è fatto il percorso formativo data? Al primo anno si parte da un corso a fine che cerca di colmare le nature o in elettronica per coloro che vengono da informatica o dei sistemi e i linguaggi di programmazione per coloro che vengono da un percorso formativo, ad esempio dell'ingegneria, che non hanno abbastanza competenza nel campo dell'hardware, nel campo dei sistemi e nel campo della programmazione. E poi vedete abbiamo un certo numero di complementari, sono possibili due complementari che trovate in questa lista di complementari che avete in alto a sinistra. Ovviamente siamo partiti e siamo partiti e bisogna non solo spiegare le peculiarità della nostra laurea rispetto alle altre che sono presenti in Italia. Questo è la figura attuale di quello che succede in Italia sulle lauree magistrali in sicurezza informatica, quindi quelle lauree magistrali che danno il titolo che viene dato dalla laurea magistrale in informatica e in cyber security. E vedete che nell'Italia centrale la laurea magistrale dell'Università di Pisa è l'unica laurea in questo momento attiva. Poi nel nord Italia esiste a Milano, esiste a Verona, a Venezia e a Padova e nel sud Italia da altre parti. In questa figura vedete esattamente la caratteristica di quello che succede in Italia. La nostra laurea è una laurea che ha tutte le caratteristiche delle altre lauree in cyber security, però è internazionalizzata e derogata in lingua inglese, proprio perché noi vogliamo formare delle persone che abbiano una apertura nel confronto dell'Unione Europea. Voglio tornare un attimo indietro perché mi sono dimenticato di dirlo. Una caratteristica che rende la laurea dell'Università di Pisa in cyber security diversa rispetto a tante altre lauree presenti sul mercato dell'offerta formativa italiana è che è una laurea verticale. Cosa intendo per che vuole affrontare le problematiche di sicurezza dalla progettazione dei sistemi hardware, quindi dalla progettazione di acceleratori criptografici nei chip hardware, al livello del linguaggio di programmazione. Quindi è una laurea verticale che vuole formare e fornire tutte quelle competenze che occorrono per affrontare le problematiche di sicurezza in ogni ambito lavorativo. E questo è il motivo perché lo dico ora, perché quali sono i profili professionali e quindi gli sbocchi occupo attesale. Ovviamente non abbiamo dati statistici, siamo partiti ora, però l'idea è che vogliamo formare persone che siano in grado di progettare sistemi e applicazioni informatiche che siano sicure, ma siano sicure sin dall'inizio, non che si deve mettere un patch ai sistemi di controllo degli oliedotti perché qualcuno ha fatto l'attacco. Cioè quando uno progetta un'applicazione deve essere in grado di avere sempre un'idea di quali sono le contromisure che devono essere prese e inserite nel progetto e nella programmazione del sistema in modo tale che l'attaccante non sia in grado di entrare. Perché se uno è costretto ad avere infrastrutture dove le patch vengono messe dopo, vuol dire che il progetto è stato fatto male. Poi vogliamo avere anche degli specialisti in cyber security, siamo in grado di guidare le imprese e comprendere dove, come e perché inserire sistemi di cyber security e in quale modo svilupparli all'interno dell'organizzazione. E infine, oltre aspetti di natura applicativa nell'ambito del moderna società dell'informazione, vogliamo avere l'obiettivo di poter formare delle persone che poi possano proseguire la carriera formativa in altri ambiti, ovvero dottorato di ricerca e poi attività di ricercatore nel settore della cyber security. Questo tag vi fa vedere quali sono tanti degli aspetti che vengono affrontati e trovate un indirizzo. L'indirizzo è l'indirizzo di Stefano Chessa, che è il presidente del consiglio di laurea magistrale. Per tutte le informazioni potete rivolgervi a lui e come diceva il collega precedentemente, se voi andate sul sito della scuola di ingegneria o sul sito dell'Ateneo trovate tutte le informazioni relative al percorso formativo nel dettaglio e il contenuto dell'insegnamento, insegnamento per insegnamento del percorso della laurea magistrale in cyber security. A questo punto aspetto eventuali domande. Grazie Gianluigi, ne leggo una. Pertanto si hanno i presupposti per la progettazione di applicazioni a prova di bomba? Si hanno i presupposti per la progettazione di applicazioni che relativamente al modello dell'attaccante, perché i sistemi si evolvono e si evolvono anche gli attaccanti, quindi con la conoscenza del modello dell'attaccante, di quello che può fare, si hanno le competenze per progettare, sviluppare applicazioni che sono molto più sicure di quelle che vengono utilizzate ora. È chiaro che se un attaccante inventa un qualcosa che priva non era possibile, a quel punto le competenze che ci sono sono le competenze che permettono anche di sviluppare non solo le contromisure, ma nuove contromisure. Come viene constatato il livello di lingua di una persona che ha intenzione di iscriversi al percorso di laurea magistrale in Cyber Security se non è in possesso di un certificato di lingua esterno? Se non è in possesso di un certificato si può utilizzare ad esempio il centro linguistico interdipartimentale dell'università per ottenere il certificato relativo. Dato che questo corso di studi vuole formare sia ricercatori che veri e propri lavoratori sul campo, si può definire più pratico o teorico il corso stesso? È verticale, contiene esattamente entrambe le cose, ad esempio tutti gli insegnamenti avranno sia aspetti di natura fondazionale, quelle che diceva più teoriche, ma anche aspetti pratici, dove gli aspetti di natura fondazionale vengono messi a terra con esemplificazioni puntuali e specifiche della sicurezza in vari ambiti che hanno, che si ha a vedere quei sistemi e le aspetti alle applicazioni web in un continuum ben definito. Stiamo anche cercando di attivare dei tirocini formativi in aziende, dovete pensare che essendo partiti ora, noi ora abbiamo il primo anno, quindi il problema si porrà dal secondo anno in poi, quindi c'è un'attività del Presidente del corso di studio per attivare degli specifici tirocini in aziende e in imprese dove è formativo effettuare dei tirocini. Però ora non mi posso, per motivi evidenti, non mi posso dare dati relativamente a questo. non ho compreso se l'accesso al corso magistrale è consentito solo con la laurea triennale in ingegneria informatica o anche con altri tipi di ingegneria dell'informazione. Si possono iscrivere a patto che vengano, come si dice, ci sono dei requisiti, se volete rimetto la slide, però gli studenti di altre classi, ad esempio l'ingegneria dell'informazione che hanno dato 36 CFU nei settori della telematica, quindi in GINF 03, della progettazione dell'argo in GINF 01, dei sistemi di elaborazione dell'informazione in GINF 05 di informatica in F01 possono iscriversi, devono avere dato anche 18 CFU di matematica o di fisica, quindi non è un accesso esclusivo. Tanto per dire una, se sono 36, tra cui anche in GINF 01, per esempio anche elettronica va bene, per 18 di matematica li abbiamo, ma quindi elettronica va bene, tu hai detto 03, va bene, perché telecomunicazioni e poi c'è informatica. Telecomunicazioni va bene. Sì, quindi elettronica, informatica e telecomunicazioni certamente, a titolo di esempio semplicemente perché sono quelli che conosco insomma da vicino, quindi non voglio... No, 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 in questo momento, nel primo anno, in questo momento abbiamo una cinquantina di iscritti e queste cinquantina di iscritti sono principalmente da informatica e ingegneria dell'informazione, però ci sono anche tante persone che vengono da telecomunicazione e da elettronica, che per esemplificare esattamente quello che stanno dicendo. Buonasera a tutti.